Hai avuto il coraggio di tuffarti nella senna? Sì, in realtà io l'ho provato ieri e appunto in base alla prova ho dato dei feedback e poi ho visto che sono stati comunque recepiti nel miglior modo dei modi. Ho visto sulle braccia delle ferite e che cosa è successo? Le indicazioni erano state quelle di passare molto 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 vicino al muro e a tutto quello che costeggiava per far sì che la corrente fosse meno forte e quei graffi sono dovuti da quelle piante. Insomma, comunque ho visto che non è che erano graffi, alle volte quando fanno tappe di Coppa del Mondo, campionati del mondo, insomma si danno certe mazzate che questi graffi non sono praticamente nulla. Questa gara delle ragazze gli darà una carica importante. Poi insomma Greg abbiamo visto sta bene, Mimmo io l'ho visto in altura, sta benissimo, ho parlato con il loro tecnico. È realistico pensare a una doppia medaglia? Loro l'hanno già fatto, insomma stiamo parlando di due campioni, perciò è realistico pensare a una doppia medaglia ma è anche realistico pensare che comunque questo è un campo gara difficile per tutti e secondo me bisogna pensare alla doppia medaglia quando arriva la doppia medaglia. Adesso bisogna pensare a affrontare nel miglior modo possibile questo tipo di campo gara. Abbiamo parlato delle tante difficoltà, la corrente, abbiamo visto sulle braccia delle ferite, no? E che cosa è successo? Quando si risale c'è una chiatta praticamente dove c'è della vegetazione passando, siccome le indicazioni erano state quelle di passare molto 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 vicino al muro e a tutto quello che costeggiava per far sì che la corrente fosse meno forte e quei graffi sono dovuti da quelle piante, insomma comunque ho visto che non è che erano graffi e alle volte quando fanno tappe di Coppa del Mondo, campionati del mondo insomma si danno certe mazzate che questi graffi non sono praticamente nulla. Tu sei andato, hai provato il percorso nei giorni scorsi, hai avuto il coraggio di tuffarti nella senna? Sì, in realtà io l'ho provato ieri e appunto in base alla prova ho dato dei feedback che poi ho visto che sono stati comunque recepiti nel miglior modo dei modi e poi affinati perché ovviamente io ho dato dei feedback, ero da solo insomma poi le ragazze piano piano, insomma giro dopo giro hanno interpretato quello che sono riuscito a trasmettere con quella che era la condizione di gara. Ne parlavamo prima, la corrente era un po' più forte del previsto, più forte degli altri appuntamenti diciamo olimpici? Sì, vabbè gli altri appuntamenti olimpici sono sempre stati diciamo con una corrente neutra o comunque non così forte, questa corrente sì era particolarmente forte, l'anno scorso ci avevano detto ma non ci avevano fatto provare il campo gara che avevano dichiarato la metà di questa corrente qua perciò insomma è stata inaspettata ma non solo per noi, poi alla fine è stata inaspettata per tutti voglio pensare che anche i francesi non si aspettavano una roba del genere. Ultima domanda, abbiamo sentito Ginevra, lei dice che tu sei stato molto martellante, sei molto esigente. Uno sport duro questo, però sono esigente col sorriso tra le labbra, insomma non mi prendo mai sul serio se mi prendo le cose che dico sono serie ma l'espressione è sempre sorridente, io poi cerco di fare il loro interesse a me Evidentemente intravedi delle potenzialità che devi tirare fuori no? Sì esatto esatto e soprattutto non mi piacciono i rimpianti, non voglio che loro abbiano rimpianti un esempio è dopo Doha, sia lei che Giulia è finita, adesso non andremo alle Olimpiadi, non faremo ho detto ragazzi finisce quando finisce la gara. Oggi hai poco da recriminare, da bastonarle oppure qualcosina? No oggi c'ho sicuramente poco da dirle, secondo me hanno interpretato bene tutto, dall'inizio è stato incredibile questo, dal primo giro hanno fatto tutto perfetto, poi la perfezione credo che non esista mai, però oggi no. Grazie a tutti